Sono il Tenente Colonello Merico Gallucci e sono il direttore del ROL2 dell'ospedale da campo qui a Abesce in Chad per la missione Nicole in supporto alle truppe UFOR. Questo è un ospedale da campo distribuito su tende e su shelter, infatti come vedremo avremo una farmacia, un laboratorio e una struttura operatoria di terapia intensiva su shelter, quindi una struttura mista che permette di effettuare, di dispiegare questo ospedale in tempi estremamente brevi e quindi svolgere in maniera molto efficace quello che è il compito. Abbiamo anche un ecografo portatile che proprio per la sua praticità ci permette di entrare anche in sala operatoria e su richiesta del chirurgo anche approfondire l'esame in sede intraoperatoria.